Un organico di cento e due cristali chiude la banda musicale della Corte di Finanza, diretta da Maestro, Colonnello, Leonardo, Serra e Grosso. Sfila ora, in uniforme storica, una compagnia composta da lievi ufficiali dell'Accademia di Verdamo. A termine dei cinque anni di formazione, gli ufficiali, dopo aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza, vengono assegnati con il grado di tenente presso le parti del corpo.